Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Per quella divozione tenerissima, che voi aveste per la Gran Vergine Maria, da voi chiamata vostra Madre, e come tale onorata continuamente, e fatta in modo speciale onorare ed amare, da tutti i vostri figli spirituali dell'oratorio da voi fondato. Impetrate a noi tutti, o glorioso San Filippo, di essere sempre veri devoti della Comune Madre Maria, per ottenere la più elette benedizioni che è la riserva ai Suoi figli fedeli. Così sia. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Filippo Neri. Pregate per noi.